Due macchine distrutte e la casa che ha rischiato grosso. L'ennesimo incendio di auto, 14 dal 9 marzo a oggi, in provincia, in una zona residenziale di San Bartolomeo di Breda di Piave, paese che si interroga ora sull'ipotesi del piromane visto il precedente di 15 giorni fa all'esterno dell'ufficio postale di Saletto. Via Villa del Bosco, di fronte al campo sportivo, il giardino in fiore, orgoglio del padrone di casa Tiziano Cattel, cela sul retro le carcasse delle due auto, una Ford Focus Station Wagon di un vicino, un impresario di 44 anni originario del Salento e l'Opel Corsa del pensionato 62enne e della moglie. Tre eventi della notte, l'ora in cui proprio dall'auto del vicino si sono levate le fiamme. L'allarme ha suonato, mi sono di corsa, mi sono affacciato alla finestra e ho visto che la macchina del vicino, che era affiancata alla mia, che c'è una rete, ha preso fuoco e momentaneamente ha preso fuoco anche la mia perché essendo attaccata ha preso fuoco. Il pensionato ha iniziato a spruzzare acqua con il tubo di gomma con cui annaffia il giardino sui serramenti del bagno e della camera da letto, riuscendo a evitare che il fuoco entrasse. Facendolo è rimasto leggermente intossicato. Avevo mal di gola, un po' insomma quel fumo che c'era, non si poteva rimanere là con una gomma da giardino da innaffiare perché col fuoco non c'è niente da fare insomma ecco. Auto distrutte, pompeiana in legno bruciata, motore del cancello da sostituire, unità esterna del condizionatore da buttare e poi l'amarezza. Essendo in pensione non è che prendo 2000 euro al mese, ho il pollice verde, mi piacciono i fiori, il giardino, l'orto, tenere la casa ovviamente pulita e quando ti siedono queste cose qui non sai cosa fare, sei impotente contro il fuoco, contro tutto ecco. L'area è sotto sequestro, carabinieri e polizia giudiziaria dei vigili del fuoco sono al lavoro per capire se si tratti davvero della mano di un piromane e di chi possa trattarsi. Catele è certo che la causa dell'incendio non sia stata un cortocircuito. Sicuramente è opera di persone malate alla testa perché saltare il cancello e venire dentro dal fuoco c'è un'auto dove c'è anche un'abitazione col pericolo, ci sono bambini, questo è quello perché se fosse per l'auto solo, diceva bene prendo un'altra e è successo, però con un'abitazione così vicino insomma sono cose da non fare, da condannare e è meglio non vedere queste persone qua ecco.